ben trovati a tutti con questo nuovo appuntamento allora oggi vogliamo parlare di un libro che diciamo è alle basi di due religioni monoteistiche diffusa a livello mondiale cristianesimo ed ebraismo ma è un libro che diciamo fa discutere dall'alba dei tempi possiamo dire e lo facciamo con un esperto una persona che ha studiato da tempo questo libro e saluto in studio mauro biglino saluto anch'io grazie a voi grazie di avermi invitato sono qui veramente con grande piacere e noi siamo contenti per fare questa chiacchierata certo siamo contenti che lei abbia accettato il nostro invito allora per molti ovviamente mauro biglino non ha bisogno di particolari presentazioni però ricordiamo lo scrittore già collaboratore per le edizioni san paolo e nonché autore di diversi libri con grandissimo successo ne cito alcuni il dio alieno della bibbia la bibbia non parla di dio il falso testamento non c'è creazione della bibbia non c'è creazione nella bibbia infine è arrivato l'ultimo libro una una possiamo chiamarlo un'intervista sì è di fatto un'intervista scritta da un giornalista giorgio cattaneo e quindi chiedo alla regia sia all'immagine la copertina del libro così la facciamo vedere eccola qua mauro biglino la bibbia nuda grazie ed è un'intervista nella quale diciamo il mio lavoro viene inserito all'interno di un contesto molto più grande di quello che io stesso pensassi potesse potesse essere quindi viene inserito nell'ambito un po della politica internazionale della anche della sociologia della cultura della musica e ovviamente ci sono dentro tutte le basi del mio lavoro comprese cose anche di cui non ho mai scritto nei libri precedenti insomma certo allora proviamo subito entrare nel direttamente nel merito della questione perché proverei a fare un passo indietro cioè proviamo a immaginarci che qua venga catapultato una persona che non sa niente di religione non sa niente di fede e diciamo non è a conoscenza delle più basi dei concetti più basilari della cultura occidentale per esempio ecco come lei di fede definirebbe definirebbe la bibbia a questa persona cioè che cos'è la bibbia nella sua alla sua radice la bibbia è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia quindi va letto come leggiamo tutti gli altri e nella fattispecie la bibbia è un insieme di libri perché non è un libro unitario un insieme di libri nel quale un popolo il popolo di israele ha raccontato e ha inteso mantenere le memorie delle sue vicende della sua storia in particolare della storia del suo rapporto con il suo governatore che la bibbia conosce con il nome di Yahweh quindi è un racconto particolare che riguarda un piccolo popolo e un piccolo territorio ecco ma allora da questo piccolo popolo questo territorio ristretto come che si è arrivati a un concetto di bibbia che come abbiamo detto prima riguarda quasi la stragrande maggioranza delle religioni al mondo si si è arrivati attraverso un'operazione devo dire di straordinaria abilità si è arrivati creando un collegamento tra l'antico testamento il le vicende di un predicatore giudeo messianista Joshua ben Youssef che noi conosciamo con il nome di Gesù suo vero nome sarebbe Giosuè tra l'altro non Gesù che è un nome latinizzato e non è neppure la traduzione di Giosuè e personaggio che è stato rielaborato dall'apostolo Paolo di Tarso che ne ha fatto una figura di valenza universale quando invece lui era un predicatore come i tanti predicatori che erano presenti in Israele in quel tempo nei decenni prima di lui e dopo di lui un predicatore che si occupava ancora una volta di quel popolo quel popolo la cui storia appunto è narrata nell'antico testamento l'unione di questi due elementi messa assieme ad una rielaborazione fatta sulla base della filosofia ellenistica in particolare dell'idealismo del platonismo e del neoplatonismo è riuscita a creare questa figura dalle valenze trascendenti metafisiche eccetera che è stata fra virgolette venduta molto bene nella cultura ellenistica cioè greco romana cioè là dove quel personaggio non era conosciuto cioè quel personaggio è stato accettato nella sua ricostruzione nei posti in cui nessuno lo aveva visto perché nei posti in cui lo avevano visto cioè i suoi seguaci diretti quella ricostruzione non l'hanno accettata certo ecco capiamo che un territorio un campo minato questo soprattutto parlare in italia immagino che nel senso non tutti ovviamente saranno d'accordo con la sua ricostruzione il suo lavoro però però almeno bisogna forse riconoscerle l'onore delle armi il coraggio di essere di aver affrontato un argomento che almeno appunto soprattutto in italia credo che sia proprio un campo minato essendo comunque un paese a grande maggioranza cattolica e quindi appunto da partendo da questo che tipo di reazioni ha avuto da parte di penso teologi penso esponenti della chiesa cattolica rispetto al suo lavoro allora diciamo così da parte delle gerarchie sostanzialmente nulla e li capisco li capisco perché il comportamento più intelligente quello di tacere tacere perché diciamo gli sviluppi potenziali sono due o le cose che io dico sono veramente una somma di stupidaggini talmente prive di significato che muoiono da sole o le cose che io dico diciamo hanno una rilevanza e un'importanza tale che è meglio non dare loro ulteriore visibilità quindi non sto a dire quale dei due comportamenti o quale delle due scelte abbiano fatto lascio che sia il pubblico a decidere invece le reazioni forti sono state diciamo così dalla base e le reazioni sono state tutte cioè nel senso che si va appunto dalla condivisione totale delle cose che io dico alla ostilità più totale di fatti insomma ho cercato in tutti i modi di diciamo così di farmi smettere ecco per dire eufemisticamente però siccome io ho dichiarato dal 2010 un metodo che è il metodo facciamo finta che ciò che leggo sia vero io vado avanti a raccontare ciò che mi pare di leggere ed è ciò che mi veniva fuori appunto dal lavoro che ho fatto per le edizioni san paolo come traduttore letterale di ebraico masoretico e di lì dal 2010 ho cominciato a raccontare e come dico sempre io racconto non ho delle verità nuove cioè non devo fondare nulla né sette né gruppi né niente ognuno faccia delle cose che io dico ciò che vuole io metto a disposizione dei contenuti e poi ognuno fa le sue riflessioni certo quindi ovviamente sono andato a ripescarmi un po di critiche che le hanno fatto dopo piano piano le rilecitiamo le ripercorriamo assieme ecco ma quindi il suo lavoro parte principalmente da uno studio da un'analisi attenta delle traduzioni spesso la traduzione viene intesa anche come una sorta di tradimento mi sembra sì ecco quindi volevo chiederle ma quali quali sono i termini specifici che diciamo l'hanno portata a questo tipo di reinterpretazione dei testi sacri si può fare degli esempi concreti sì certamente allora ci sono dei termini che sono ad esempio elohim poi li spiego elohim ruach kavod malach che sono dei termini elion che vengono normalmente tradotti in modo teologico e la traduzione teologica è veramente una un tradimento ma anche se è vero che ogni traduzione è potenzialmente un tradimento tant'è che nel mio canale il vero mauro biglino da tempo sto facendo una serie di mini video nei quali dico onde evitare discussioni che si possono protrarre per decenni senza arrivare ad avere una soluzione tanto meno una soluzione condivisa certi termini non traduciamoli cioè lasciamo leggiamo la bibbia lasciandoli così come sono in ebraico non chiediamoci neppure che cosa vuole dire ma leggendoli bene e quindi leggendo quindi nelle bibbie che abbiamo in casa quelle tradotte in italiano quindi senza parlare delle mie traduzioni ma leggendo attentamente ciò che dice il contesto di quel singolo termine noi riusciamo a capire a che cosa si riferisce quel termine senza la necessità di entrare nella spirale delle discussioni del significato vero perché è una spirale come dimostrano secoli di studio dalla quale non si esce certo e forse il termine su cui appunto si è discusso più di tutti è il termine di dio cioè il concetto di divinità ecco ma è presente effettivamente nella bibbia alcun concetto di divinità come la intendiamo noi quindi una divinità spirituale onnipotente onnisciente oppure parlo soprattutto dell'antico testamento c'è qualcosa effettivamente da rivedere allora c'è molto da rivedere nel senso che la risposta precisa alla domanda che mi ha fatto cioè c'è la divinità spirituale trascendente onnipotente nell'antico testamento non c'è mi scrive scrivevano addirittura scrivono addirittura degli esegeti ebrei che l'ebraico non ha neppure il termine che indica dio nel senso come entità da adorare così come lo intendiamo noi e perché non c'è il termine non c'è il termine perché non c'è il concetto sottostante perché se ci fosse il concetto siccome il concetto viene espresso attraverso un termine anche elaborato attraverso un termine ci sarebbe il vocabolo che lo che lo definisce e invece non c'è di fatti una delle critiche più forti e quindi come dire la materia del contendere sostanziale è proprio sul termine elohim che è un termine plurale e che quindi necessariamente l'esegesi teologica deve far diventare singolare perché se si vuol parlare di una di un dio soprattutto all'interno di una religione monoteistica beh quel plurale in un qualche modo deve essere singolarizzato ecco io nei miei libri e come faccio nelle conferenze documento che indipendentemente dal significato che si vuol dare al termine elohim che io dico è bene non tradurre perché tanto non si sa cosa vuole dire indipendentemente dal significato andiamo a vedere se la bibbia parla di un solo elohim o parla di tanti la bibbia parla di tanti su questo proprio non c'è nessun dubbio e siccome parla di tanti tanti è per definizione plurale certo ecco è a proposito appunto di del termine elohim del fatto che nella bibbia effettivamente vengano citati elohim di altre di altre popolazioni che vi convivevano con con gli israeliti ecco ma una critica che spesso viene fatta e soprattutto una critica da parte della comunità religiosa è ok sì effettivamente la bibbia parla di altri lui ma quegli altri lui non esistevano veramente cioè esisteva alla fine solo un elohim che è Yahweh come si può come risponde allora per la bibbia gli altri lui esistevano come esistevano al punto che salomone quindi il più saggio di tutti i re addirittura il più saggio di tutti i sovrani del mondo e della storia ha fatto addirittura costruire dei centri di culto agli altri elohim ed erano elohim ed è necessario fra virgolette tenerseli buoni perché non si sa mai in un commento ad esempio ai famosi dieci comandamenti quando il primo si dice non avrai altri altri elohim all'infuori di me beh già lì c'è non avrai altri elohim quindi vuol dire che il famoso dio che ha dato quei comandamenti era ben consapevole degli altri quindi non è che dice gli altri non esistono non li avrai e nei commenti ebraici citati tra l'altro da una studiosa ebrea c'è scritto che quel non avrai ha un significato anzi ha due significati uno è tanto gli altri elohim non ti danno niente di più di quel che ti do io non ha bisogno di commenti oppure non avrai altri elohim all'infuori di me fino a che io ci sono perché come dice la bibbia gli elohim muoiono morivano come tutti gli altri uomini quindi lui cioè Yahweh il cosiddetto elohim dio era ben consapevole che ci poteva essere fino a un certo punto e da un certo punto non esserci più e quando lui non c'era più di certo non gli interessava a quale elohim quelli si sarebbero eventualmente rivolti e poi la bibbia li nomina anche gli altri elohim da dei nomi ripeto nel libro dei giudici c'è addirittura un altro elohim che è messo a raffronto con Yahweh e dice che hanno gli stessi poteri nei confronti dei popoli sui quali governavano gli stessi poteri di affidare dei territori ai loro popoli ma questo è riconosciuto con chiarezza quando il comandante delle forze in capo di Israele dice il re di questi loro avversari dice ma il vostro elohim vi ha dato quelle terre e ve le tenete il nostro ci ha dato queste noi ce le teniamo uguali uguali ora se parlava di un elohim non esistente mi vien da dire che Yeftè insomma in quel caso il capo delle forze di Israele poverino non sapeva di che cosa stesse parlando e poi all'interno stesso della famiglia di Abramo c'era Abramo che seguiva un gruppo di elohim nella fattispecie Yahweh e i suoi fratelli è detto chiaramente nella Bibbia ne seguivano altri il che cosa vuol dire che Abramo aveva capito che esiste Dio e gli altri suoi fratelli erano dei non voglio essere offensivo dei poveri sprovveduti che non avevano capito che si rivolgevano al nulla e Abramo non gliela mai spiegato che si stavano rivolgendo al nulla era il loro fratello cioè la Bibbia è talmente chiara talmente chiara che bisogna fare i salti mortali per coprirla certo effettivamente questo punto questo snodo centrale credo che sia quello del termine elohim di come è stato poi tradotto nei secoli sia veramente la base di tutta questa questa discussione da cui poi seguono altri altre cose chiedo un attimo di pazienza anche ai nostri telespettatori perché facciamo un piccolo break bene eccoci qua di nuovo in collegamento siamo in compagnia di Mauro Biglino stiamo parlando appunto della della Bibbia di alcuni dei temi fondamentali che hanno caratterizzato il suo lavoro ma passiamo ora a un altro tema che secondo me è molto interessante ed è quello della tecnologia all'interno della Bibbia cioè ci sono degli degli oggetti all'interno del soprattutto dell'Antico Testamento che non solo hanno caratterizzato parte del suo lavoro ma anche dell'immaginario collettivo del mondo occidentale penso per esempio all'arca dell'alleanza che è stato anche un diciamo è stata anche la base di un film famoso di Indiana Jones i predatori dell'arca perduta ecco ecco ma l'arca dell'alleanza questo oggetto misterioso di cui poi si è persa traccia è effettivamente un oggetto storico esistito e soprattutto di cosa si tratta secondo quello che lei ha svolto allora io naturalmente per dichiarazione metodologica ma anche per convinzione faccio finta che sia vero anche perché altrimenti tutta una serie di cose diventerebbero incomprensibili quindi se invece facciamo finta che sia vero tutta una serie di eventi anche diventano comprensibili diventano comprensibili gli ordini che gli aveva dato a coloro che avevano a quei pochi che avevano la possibilità e il dovere cioè i sommi sacerdoti la famiglia del sommo sacerdote di operare con l'arca dell'alleanza che dovevano essere vestiti in un certo modo potevano entrare nel luogo in cui c'era l'arca soltanto in certi momenti e non in altri e quindi il fatto di essere vestiti in un certo modo sembravano un po' chiusi come dentro una gabbia di Faraday così leggendo la Bibbia tra l'altro la cosa interessante è che quando la Bibbia descrive quegli abiti noi nelle traduzioni troviamo opera di artista in realtà in ebraico c'è scritto opera di progettista che è una cosa completamente diversa una cosa più tecnica opera di pensante progettista non di artista cioè non era l'estro così faccio le cose anche perché quegli abiti in realtà venivano usati soprattutto all'interno e quindi in realtà non è che servissero tanto dal punto di vista estetico almeno che non vogliamo pensare che Dio avesse bisogno di vedere degli abiti belli ma sarebbe una cosa ridicola soltanto immaginarla poi l'arca veniva utilizzata in battaglia quando la portavano in battaglia in una delle descrizioni c'è scritto che l'esercito di Israele doveva camminare a 2000 cubiti cioè a un chilometro di distanza ora questo avrà avuto un significato quando i filistei se ne impossessano se ne liberano immediatamente perché produceva tutta una serie di effetti non essendo loro in grado di diciamo così di manovrarla effetti che erano per loro mortali e quindi la restituiscono per cui era appare essere un generatore di energia un condensatore di energia e anche un sistema per le comunicazioni di stanza perché anche qui la bibbia dice chiaramente e non è un'interpretazione proprio scritto così che nelle due strutture che c'erano sopra l'arca che la bibbia chiama cherubini e che noi siamo abituati a identificare come angeli ma la radice cherubi indica ciò che sta sopra ciò che copre avevano ciascuno due elementi laterali che anche lì vengono definite ali ma come noi diremmo che so possiamo dire le ali di un condominio ma certo non pensiamo che il condominio abbia le ali bene e lì la bibbia dice che in mezzo a quei quattro elementi che si contrapponevano Mosè sentiva la voce di Yahweh ora se questo non fosse scritto nella bibbia ma fosse scritto in una normale rivista di qualunque genere tutti noi in assoluta tranquillità non avremo nessuna difficoltà a capire di che cosa si tratta un sistema di comunicazione a distanza cioè in mezzo a quelle antenne sento la voce e parlo però siccome lo dice la bibbia guai a dire queste cose ma lo dice chiaramente dopo di che se piace bene se non piace pazienza ma questo dice certo ma ecco se c'è la sensazione leggendo appunto alcuni passi dell'antico testamento come questo dell'arca dell'alleanza che ci fossero degli degli oggetti appunto che non aveva non fossero sotto il diretto controllo nemmeno della divinità esatto l'arca dell'alleanza come lei ha detto doveva l'esercito doveva stare molto lontano dall'oggetto e poi ho letto anche di nei suoi libri anche di altri oggetti che richiedevano una certa determinata attenzione nel poter vederli nel poter affrontarsi con loro qualche altro esempio per esempio il kavod il kavod è un termine che viene sempre tradotto con gloria cioè gloria di dio ora il termine ebraico la radice ebraica kvd indica un qualcosa di pesante cioè se noi oggi dovessimo definire un kavod potremmo definire un elefante un kavod oppure un car armato un kavod oppure un aereo un kavod dopodiché per estensione del significato un qualcosa che è pesante è un qualcosa che è di peso è un qualcosa che è di peso è anche un qualcosa che è famoso ma si tratta veramente di una trasposizione lunghissima di significati ma al di là dei significati ed è questo il motivo per il quale io ho inserito kavod nell'elenco di quei termini che è bene non tradurre c'è il contesto che è proprio quello quello al quale si riferiva lei allora quando mosè dice a yahweh io devo vedere il tuo kavod viene tradotto con io devo vedere la tua gloria ma allora cosa vuol dire vuol dire che dio è lì ma la sua gloria non c'è cioè dio è lì ma la gloria non ce l'ha e dice a mosè tienti pronto per domani mattina cioè mi viene un po da sorridere perché ma non per disprezzo perché io amo la bibbia ovviamente la tratto con passione cerco di rivalutarla il più possibile ma come fa dio a dire tienti pronto per domani mattina perché io la mia gloria te la faccio vedere me la porto dietro domani mattina quindi primo secondo poi dice quando io passo con la mia gloria quindi la gloria è una cosa che passa quindi non è come dire una un attributo spirituale che è lì presente ma è un qualcosa che passa quando io guardo passo con la mia gloria tu non la puoi vedere da davanti perché se la vedi da davanti la mia gloria ti ammazza il che vuol dire che dio non è in grado di controllare gli effetti della sua gloria dice però se quando io passo con la mia gloria tu ti nascondi dietro queste pietre e la guardi di dietro non muori il che vuol dire che le pietre sono in grado di fare ciò che dio non è in grado di fare cioè controllare gli effetti della gloria per questo io dico non traduciamolo perché altrimenti andiamo avanti per decenni a dire sì significa gloria non non ha nessuna importanza il cavode cavod fa quelle cose lì dopodiché ciascuno pensi ciò che vuole ma il cavod fa quelle cose lì nel libro di ezechiere c'è scritto che il cavod quando si alza da terra quindi pensiamo alla gloria di dio che si alza da terra fa molto rumore e cosa possiamo allora passa se sei davanti ti uccide se ti nascondi non ti uccide se sei vicino ti uccide se a terra bene quando si alza da terra fa molto rumore ognuno pensi ciò che vuole ma la bibbia dice quello del cavode per questo io dico non perdiamo tempo nelle traduzioni lasciamo cavode non ci importa lasciamo cavode certo ma una critica che viene posta questo a questa chiamiamo la interpretazione e il fatto che appunto quando la bibbia parla di gloria che appare o il gloria che si solleva eccetera la lettura più giusta da fare non sarebbe quella letterale ma quella allegorica certo questa mi sembra di capire che sia un po la critica che le viene fatta ecco ma come lei come si difende da questo tipo di allora diciamo che in realtà non ho bisogno di difendermi ma capisco la domanda è assolutamente corretta e comprensibile io dico il primo livello di lettura di un qualunque libro e questo lo riconoscono anche gli ebrei è la lettura letterale e io dichiaratamente dall'inizio dico io leggo letteralmente ciò che c'è scritto e ve lo racconto dopodiché di lì in avanti ognuno proceda pure come vuole cioè chi vuol pensare che Ezechiele abbia vissuto tutta una serie di esperienze oniriche è liberissimo di farlo il problema nasce nel momento in cui quei racconti di Ezechiele diventano solo indubitabilmente esperienze oniriche io dico no attenzione prima c'è il significato letterale che messo tutto assieme potrebbe farci ipotizzare altro perché in queste visioni quando per esempio prima ho detto il cavot che si alza eccetera e poi il rapporto che il cavot ha con i cherubini che sono anche quelle macchine volanti lui dice ad esempio ad un certo punto quando ho visto questa cosa qui cioè questo insieme di azioni che il cavot ha fatto con i cherubini mi è venuto in mente che i cherubini sono le cose che avevo visto molto tempo prima nella pianura e lì le vede nell'interno del tempio ora come si fa a mettere assieme delle visioni oniriche di questo tipo cioè lì Ezechiele è molto chiaro zaccaria quando vede gli oggetti volanti e ne vede ben di due tipi diversi dice chiaramente io ero sveglio come uno che è stato svegliato dal sonno non ci sono dubbi non stava dormendo e vede un cilindro volante di cui definisce anche le dimensioni e vede un altro oggetto volante che ha un'apertura metallica e quando questa apertura viene appunto aperta dentro c'è una donna una femmina che diciamo così lo sta guidando ma lui dice ero sveglio come uno che è stato svegliato dal sonno quindi non possiamo dire perché altrimenti dobbiamo negare ciò che lui stesso dice allora io dico benissimo le interpretazioni allegoriche simboliche metaforiche ma ognuno è libero di fare quello che vuole teniamo presente che la prima di tutte è quella letterale e io faccio finta che sia vera quella lì se poi non piace ma ciascuno veramente elabori ciò che vuole ma ci mancherebbe rivendi col diritto di fare quella letterale certo ecco ma la lettura letterale parte da un presupposto cioè che la bibbia racconti dei fatti storici realmente accaduti quindi lei nei suoi lavori in pratica cioè sta dicendo che la bibbia potrebbe essere effettivamente interpretato come un libro di storia esattamente come tutti i libri di storia che nella sostanza contengono la verità perché dico nella sostanza perché tutti i libri di storia compresi quelli che sono scritti ora non è che contengono la verità contengono la verità così come studiata vista analizzata incamerata e presentata dall'autore e ogni autore non può svincolarsi da una sua personale posizione quindi quando si scrive un libro di storia ovviamente bisogna sempre tenere presente tutta una serie di elementi che contiene delle verità che contiene delle non verità che contiene delle dimenticanze magari alle volte delle dimenticanze volute che contiene per esempio delle iperboli che contiene delle esagerazioni questo vale per tutti i libri di storia non so mi viene in mente tutta quella polemica che c'è stata quando giampaolo panza ha scritto quei suoi libri sulla guerra civile in italia tra il 43 e il 45 ha scatenato un sacco di polemiche perché perché ha scritto cose ben diverse rispetto a quella che era la storia ufficialmente riconosciuta e accettata eppure pensiamo siamo a poche decine di anni dagli eventi pensiamo a questi che scrivevano secoli dopo sulla base di racconti no e ovviamente scrivevano per presentare il loro popolo possiamo pensare che non abbiano esagerato certe cose che non ne abbiano nascoste no assolutamente c'erano i faraoni che quando vincevano contro una tribù di beduini facevano scrivere di aver vinto una grande guerra vale per tutti vale per tutti il problema il problema che né sui testi dei faraoni né sui testi dei sumeri eccetera è mai stata costruita una grande religione allora lì va bene perché in fondo si tratta di discussioni fra virgolette accademiche invece qui si tratta di un tema molto sensibile per cui dire queste cose diventa inaccettabile no dire ah no ma la bibbia però ci sono delle cose che fanno pensare che sono state scritte proprio perché non potevano fare diversamente perché sono alle volte talmente orribili alle volte talmente ridicole quando parlano del loro dio che uno dice ma come si possono inventare cioè se uno inventa inventa bene non si inventa delle cose dicendo guardate quanto è bravo il mio dio che fa bruciare i primogeniti o guardate quanto è bravo il mio dio che non è in grado di leggere neppure dentro l'animo degli uomini tant'è che quando vuole li deve mettere alla prova per capire se stanno veramente con lui oppure no come si fa a inventare una roba nessuno la inventa se ti inventi un dio ti inventi un dio come dio comanda altrimenti una bella battuta questa è come a proposito di libri della bibbia inteso come libro di storia mi viene anche in mente il fatto che molta archeologia a cavallo tra l'ottocento e novecento si è basata proprio sulla bibbia come fonte per anche per effettuare diversi ritrovamenti che poi sono stati che hanno trovato il riscontro nel testo il discorso degli titi che era citato nella bibbia come il popolo di catti e che si diceva un popolo inventato invece poi adesso proprio ultimamente ultimissimamente nelle ultime settimane un archeologo dell'università di princeton se non sbaglio comunque su un reperto che si trova al british museum dove è disegnata una zigurat lui ritiene di aver trovato l'ennesima prova che la famosa torre di babele è esistita veramente e non è quella zigurat di babilonia ma ha identificato anche la possibile localizzazione cioè quindi man mano che si va avanti pare che si trovino sempre di più conferme archeologiche a ciò che dice la bibbia poi ripeto la bibbia è un libro di storia con tutte quelle caratteristiche positive e negative che hanno i libri di storia quindi dobbiamo necessariamente tenere conto di questo finisco chiedo scusa è un libro nella sostanza di storia poi sopra ovviamente gli autori ci hanno ricamato ma questo certo ecco ci sono diversi altri argomenti che appunto toccheremo in seguito chiedo un'altra piccola un po di pazienza ai nostri telespettatori facciamo un altro piccolo break eccoci qua siamo di nuovo collegati in compagnia di mauro biglino stavamo appunto parlando dei vari aspetti controversi possiamo dire del riguardo alla bibbia ecco ma allora abbiamo parlato di un testo che parla di diverse divinità diversi popoli in lotta tra di loro sembra che queste divinità anche appunto facessero riferimento ognuna di essa un popolo specifico mi viene in mente una cosa mi viene in me mi vengono in mente i testi omerici perché nell'iliade nell'odissea si parla più o meno della stessa cosa di divinità che a cui i popoli fanno riferimento per specifiche aree di intervento è così proprio così raccontano anche qui nella sostanza la stessa storia nel senso che a partire dall'inizio quindi a partire dal modo in cui ad esempio platone dice che le cosiddette divinità si sono divise i popoli viene in mente ciò che la bibbia scrive il modo in cui i diversi elohim si sono divisi i popoli poi come ho detto prima la bibbia è un testo che racconta la storia di un popolo e ovviamente cita gli altri perché necessariamente questo popolo ha avuto rapporto con i suoi non fosse altro per il fatto che è andato a prenderli territori dove questi stavano tranquillamente però anche lì cioè sia nella cultura greca sia appunto nella bibbia si parla chiaramente di una suddivisione dei popoli tra le varie divinità ciascuna divinità o per esempio nel caso greco anche delle divinità che governavano in abbinamento per esempio Atena ed Efesto governavano assieme sullo stesso popolo per affinità di caratteri loro di intendimenti eccetera e invece la cosa curiosa per esempio che nella bibbia si dice anche qui di nuovo un'altra riprova nel capitolo 32 del Deuteronomio si dice che Yahweh si occupò letteralmente ma non nelle traduzioni mie nelle traduzioni normali si occupò da solo di quel popolo non c'era con lui alcun Elohim straniero ma come si fa a dire non c'era alcun Elohim straniero se questi altri Elohim non esistono come si fa ad avere la necessità di fare una precisazione del genere cioè lui dice di questi qui lui ha detto va bene ok me l'avete assegnati ci penso io lasciatemi fare finito quindi questi abbinamenti e queste queste corrispondenze sono straordinarie cioè rileggendo l'Iliade l'Odissea con lo stesso metodo sempre quindi con mente aperta facendo finta che alla sostanza ci siano dei racconti veri troviamo dei parallelismi straordinari con la bibbia proprio nelle figure di questi dei nelle loro attitudini personali nelle loro esigenze in ciò che volevano fare nei modi in cui si comportavano con i loro con i loro popoli nel modo in cui i loro stessi entravano in battaglia esattamente come faceva Yahweh cioè esattamente la stessa cosa quindi l'Iliade l'Odissea sono da intendere anche anche loro come dei libri di storia anche sulla base forse del del lavoro di Enric Schliemann esattamente esattamente per fortuna per fortuna Enric Schliemann che non era un accademico non era neanche un archeologo ha fatto finta che Iliade l'Odissea raccontasse una storia vera per fortuna Schliemann non si è fatto fermare da quella valanga di critiche che gli sono piovute addosso da quella valanga di sarcasmo che gli è piovuta addosso da parte insomma del mondo degli specialisti che gli dicevano ma cosa vuoi fare tu non c'entri nulla lascia fare a noi queste cose per fortuna lui è andato avanti e adesso tutti lo devono ringraziare compresi diciamo così i discendenti di quelli che lo denigravano perché altrimenti voglio dire poi qualcuno può contestare può dire ma sì quella lì non è la vera troia insomma si possono discutere però voglio dire per esempio ciò che ha scoperto Micene sarebbe rimasto lì perché ovviamente siccome Micene faceva parte di questi racconti epici fantastici e quindi nessuno veniva in mente di andare a cercare il regno di Micene Agamennone eccetera invece per fortuna appunto si è andato avanti e stanno aumentando sempre di più gli studiosi anche accademici che dicono beh in effetti le lie dell'odissea vanno considerati storia certo quindi a prescindere da come uno la pensi forse bisogna dare più credito a quello che ci stanno quello che ci dicono che ci raccontano gli antichi ma io direi di sì nel senso che se noi pensiamo ad una cosa facciamo finta di essere in un tribunale e facciamo finta che ci sia una persona accusata di un non so che cosa e si trovano 4-5 testimoni che dicono io l'ho visto sulla base di quei testimoni viene condannato sulla base ovviamente anche di altri elementi eccetera ma insomma le testimonianze se noi leggiamo i testi del passato abbiamo centinaia di testimonianze che ci dicono certe cose ma noi diciamo che sono favole ma com'è possibile questa doppiezza di comportamento poi sappiamo perché è possibile perché accettarla accettare quindi la validità di quelle testimonianze significherebbe rimettere in discussione tutto ciò che si pensa di sapere tutto ciò che ci viene insegnato e anche quindi rimettere in discussione fior di carriere fior di cattedre però la scienza deve secondo me cioè ce l'ha proprio dovrebbe averlo nel suo dna il bisogno di rimettersi continuamente in discussione soprattutto di fronte a delle evidenze cioè delle evidenze nel senso che se io trovo un racconto in un libro e nella sostanza trovo la stessa cosa in libri scritti a migliaia di chilometri di distanza beh devo cominciare a pensare che forse c'è un fondo di verità quando io trovo scritto che a fabbricare l'umanità sono stati degli individui superiori poi lasciamo stare chi fossero perché tanto in questo momento è impossibile definirne l'entità eccetera ma non ha cioè chi fossero come entità se però appunto in medio oriente estremo oriente nell'america si dice che sono arrivati degli individui che hanno fabbricato l'umanità così come la conosciamo intesa come homo sapiens e che hanno trasferito all'umanità tutta una serie di conoscenze come possiamo dire semplicemente hanno quello non conta nulla sono tutte favole cioè in india in cina in medio oriente in africa in centro sud america il nord dell'europa tutti hanno inventato la stessa favola ma che bisogno c'era visto che ogni popolo semmai dice o comunque semmai tende a celebrare se stesso perché dire io queste cose non le sapevo me le hanno dette quelle là bastava dire le ho imparate me le sono studiate guardate come sono bravo invece no insomma questo dovrebbe far quanto meno pensare ecco appunto parlando di parallelismi forse il primo parallelismo con la bibbia che può venire in mente è quello con i testi sumero sumero accadici da cui forse la bibbia ha preso le sue stesse fondamenta ci sono degli episodi quasi simili come il giardino dell'eden ma anche il diluvio universale parlando del giardino dell'eden si parla esattamente della stessa cosa sì cioè si parla di uno di quei laboratori che quegli individui chiamiamoli così così almeno non entriamo in polemiche inutili quegli individui avevano impiantato probabilmente in varie parti della terra dove facevano determinate cose nella nella bibbia si dice che lì coltivavano ogni albero che porta frutto attenzione non le margheritine ornamentali cioè producevano albero si intende ogni vegetale che porta frutto quindi producevano cibo allevavano animali adatti ad essere mangiati e poi lì dentro ci hanno messo il famoso adam dall'altra parte cioè nei racconti sumero accadici si dice che quelli là che lì sono chiamati anunna o unnaki e nella bibbia elohim hanno fatto fra virgolette scendere dal cielo i cereali e hanno insegnato agli uomini a coltivarli e loro scrivono quindi sumeri scrivono noi mangiavamo l'erba dei prati come le pecore cioè come dire noi eravamo come gli animali poi sono arrivati quelli lì e ci hanno dato i cereali ma vogliamo provare a fare finta che sia vero visto che stando a ciò che scrive la scienza nelle riviste scientifiche le variazioni genetiche che hanno portato quelle varietà di cereali che noi consumiamo sono avvenute in un modo sono talmente improbabili non impossibile talmente improbabile talmente rare da poter quasi essere definite impossibili e invece sono avvenute tutte lì tutte in successione e tutte in tempi brevissimi e uno dice ma come è possibile ma gli antichi ce l'hanno raccontato e se volessimo per una volta provare a fare finta che sia vero magari capiremmo certo veniamo adesso una domanda secondo me cruciale perché noi abbiamo parlato di testi di quindi interpretazione letteraria come può essere letta la bibbia e appunto questa questa lettura direi che è molto molto affascinante quindi appunto parliamo di gruppi di individui non abbiamo non li definiamo teniamo appunto in diciamo anonimi come identità e come provenienza che ha in qualche modo indirizzato lo sviluppo della dell'homo sapiens ecco ma appunto tenendo ferma questa questa tesi molti direbbero ma manca la pistola fumante cioè manca la prova incontrovertibile un segnale un qualsiasi tipo di manufatto tecnologico che potrebbe in qualche modo provare l'esistenza di questa di questo gruppo di individui che era dotato evidentemente di una tecnologia superiore qual è la risposta che si può dare allora io dico questo per semplificare se queste persone hanno voglia di leggere per esempio i libri di Marco Pizzutti oppure leggere i libri di Jim Mars per parlare degli Stati Uniti lì di elementi tecnologici riferiti al passato cioè trovati non spiegabili è strapieno strapieno basta non nasconderli facciamo qualche esempio giusto ma per esempio si parla di viti microscopiche trovate in pietre fossilizzate 100 milioni di anni fa viti microscopiche intendo dire 0 2 0 3 millimetri fossilizzate 100 milioni di anni fa chi le faceva con le cosenie molti dicono anche le piramidi potrebbero essere un io sono tra quelli che pensano che guardando le piramidi guardando le tre piramidi di ghizza e guardando tutte le altre mi chiedo ma com'è possibile che abbiano fatto queste tre così e poi abbiano dimostrato la totale incapacità di rifarle perché tutte le altre stanno cadendo quelle lì sono lì un'archeologa romana di quelle ufficiali accademiche mi disse la civiltà egizia è una civiltà emulativa e ha cercato di fare cose che però non era più capace di fare perché certe cose non le ha fatte loro ma penso per esempio alla base del tempio di Baalbek in Libano nella valle della Baalbek dove ancora adesso noi non saremmo in grado di farlo cioè un trilite cioè insomma tre pietre di quasi mille anzi una è di 1200 tonnellate tagliate e spostate in un luogo montagnoso non su un'autostrada non sulla pista di un aeroporto dove adesso per esempio il macchinario che trasporta lo shuttle alla base di lancio sarebbe in grado di portare quelle pietre ma per alcune centinaia di metri su un terreno sul suo punto sulla base asfaltata dell'aeroporto non in montagna eppure sono lì e nessuno sa com'è gli antichi ci dicono che lì utu shamash metteva a riposo il suo carro ora se noi pensiamo che il carro era una biga con due ruote mettiamo pure una quadriga per dire qualcosa di più pesante ma che bisogno aveva di fare una base che doveva sostenere pesi e facciamo finta spinte enormi facendo tra l'altro una cosa indipendentemente dal significato e dalle funzioni che noi oggi non siamo capaci a fare però è lì e bisogna pure spiegarla bisognerebbe spiegarlo l'unica cosa di cui siamo certi che quelli che erano lì non hanno potuto farla e allora certo quindi vediamo vedremo anche nei prossimi anni se ci saranno delle evoluzioni dal punto di vista anche archeologico nuove scoperte che potranno permettere un certo tipo di rilettura ecco della storia ecco come ultima domanda una un'anticipazione del di questa intervista qualche magari avete affrontato qualche argomento che va al di là un po del come lei diceva prima dei suoi studi sì per esempio mi ha fatto giornalista mi ha fatto delle domande sull'apocalisse l'abbiamo inserita abbiamo inserito certe cose scritte nella bibbia all'interno di ultime definizioni della nasa oppure del direttore della del sistema di difesa aerospaziale di israele che corrispondono effettivamente ad una serie di cose che sarebbero scritte nella bibbia e che quindi sarebbero spiegabili diciamo aveva dichiarato che cosa aveva dichiarato che israele gli stati uniti da anni sono in contatto con civiltà provenienti da da altri mondi l'ha dichiarato in assoluta tranquillità ne hanno parlato tutti i giornali ed è l'ha dichiarato ovviamente quando è andato in pensione diciamo che il giorno che si scoprirà che questa dichiarazione vera io non me ne stupirò affatto ecco allora quindi lasciamo i nostri spettatori con questa direi magari ecco una cosa curiosa è l'incipit che secondo me è molto bello sì sì leggiamo l'ha scritto il giornalista e se ci fossimo sbagliati bella domanda sbagliati su cosa su tutto chi siamo da dove veniamo ah bene robetta da niente capovolgere le proprie convinzioni eccetera 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 direi che una un bella una bella spinta per appunto continuare questo questo percorso di chiamiamolo di ricerca perché poi ricerca di ricerca che forse non ha nel senso una ricerca continua come qualsiasi cosa che riguarda appunto la ricerca dell'uomo di dubbi esistenziali come questi che ecco che non hanno ancora trovato una soluzione l'importante è coltivare il dubbio esatto perché nel momento in cui si pretende di sostituire una verità come quella che ci viene raccontata e che di fatto non ha prove con un'altra verità che di fatto non ha prove perché come ha detto lei prima non esiste la pistola fumante significa ricompiere ricommettere lo stesso errore degli altri allora bisogna stare molto attenti a non commettere lo stesso errore allora di fronte a delle verità che non sono in grado di essere dimostrate poniamo delle domande poniamo dei dubbi poniamo delle riflessioni e diciamo guardate che lì c'è scritto quello fatene quel che volete però se volete condurre dei ragionamenti su quel libro mentre da un lato ci vengono raccontate soltanto le interpretazioni perché questo è il fatto importante io vi dico le interpretazioni vi piacciono fantastico tenetele io ho sempre detto se credete in dio non fatemi fregare dalle cose che vi dico io fregare nel senso fatevi frenare di dio se c'è io non lo so se dio c'è o non c'è non me ne occupo assolutamente dico però che mentre adesso ci raccontano soltanto le interpretazioni io vi dico che sappiate che alle base di quelle interpretazioni c'è questo testo quindi quando fate le vostre riflessioni usate sia le une che l'altro bene direi che una riflessione veramente che facciamo nostra anche per bio blu perché appunto nel nostro ambito di lavorativo la ricerca costante senza avere la pretesa soprattutto di imporre la verità nessuno assolutamente e ecco quindi io veramente la ringrazio ma rubiglino per essere stato con noi per questa interessantissima chiacchierata che veramente a prescindere da come la si pensa devo dire che bisogna come ho detto prima dargli l'onore delle armi perché ha intrapreso un percorso veramente coraggioso perché non facilissimo me ne rendo conto esatto esatto e comunque siamo ancora qua a parlarne quindi effettivamente e andiamo avanti esatto è servito a qualcosa quindi io la ringrazio speriamo di averla di nuovo qua su bio blu grazie a lei grazie a voi grazie a quelli che ci hanno che ci ascoltano un saluto e anche io spero di tornare perché queste chiacchierate sono veramente molto piacevoli e illuminanti